Amici di LiguriaWeb.tv, bentornati a questa nuova puntata di Cambia Vita con Calma. Come vedete oggi sono da sola in questa puntata perché continuiamo la serie per quello che riguarda le raccomandazioni per l'alimentazione, nella prevenzione oncologica e lo stile di vita. Oggi in particolare parliamo della raccomandazione dell'importanza di allattare al seno per almeno i primi sei mesi di vita del bambino. Questo perché? Perché ha un effetto protettivo sia per il neonato, quindi per lo sviluppo successivo di eventuali patologie, rafforza le difese immunitarie, aiuta la flora batterica intestinale, quindi ci sono tutta una serie di conseguenze positive riguardanti l'allattamento al seno. E anche per la mamma, per diversi fattori. Prima di tutto perché aiuta la perdita di peso dopo il parto, quindi durante l'allattamento si hanno bisogno di 500 calorie in più al giorno e quindi questo aiuta la perdita di peso dopo il parto. E ci sono delle evidenze scientifiche che dimostrano che l'allattamento al seno aiuta la prevenzione del tumore al seno sia nelle donne pre e post menopausa. Questo perché? Perché durante l'allattamento non si ha il ciclo mestruale e quindi non si ha la produzione di ormoni relativi proprio al ciclo mestruale, questo è un fattore protettivo proprio per l'insorgenza del tumore al seno. E anche perché durante l'esfoliazione con l'allattamento delle esfoliazioni delle cellule mammarie si perdono quelle potenziali cellule con un danno al DNA e questo è stato visto essere un fattore protettivo proprio per il tumore al seno. Per cui anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute invitano proprio ad allattare al seno i bambini e non c'è un limite, quindi non viene dato un limite, ma anche fino ai due anni, fino a quando mamma e bambino lo desiderano. È importante durante l'allattamento nutrirsi in maniera adeguata, quindi introdurre la giusta quantità di sali minerali, proteine, energia, acidi grassi essenziali, questo per dare il giusto apporto al bimbo. Se non ci si nutre in maniera adeguata, quello che può succedere è uno produrre abbastanza latte senza però necessariamente influire sulla composizione del latte materno. Quindi è importante che una donna che sta lattando si nutre in maniera adeguata e che in base anche al suo indice di massa corporea in base al suo peso e perché, come dire, questo farà in modo sia di prevenire eventuali patologie per la mamma che per il bambino. Per cui volevo assolutamente darvi questa informazione perché è appunto una raccomandazione del Fondo Mondiale per la ricerca sul cancro. Se questo video è stato interessante vi chiedo di condividerlo, di mettere un mi piace. Se avete delle domande vi invito a farle alla redazione mandando un'email proprio all'indirizzo che vedete in sovraimpressione e noi ci vediamo alla prossima puntata di Cambia vita con calma. Un abbraccio!